Che emozione, che emozione, che emozione, che emozione, se la terza puntata del posto al campo, le ali ce le ha, ce le ha ancora, ce le ha ancora le ali, ce le ha, normodotato, ma guardate come lo osserva con attenzione, guardatelo, con l'occhio chiuso, abbiabriacone. Mettici andecchia, guarda quei frulli là giù, quei frulli là giù come masteriano, nell'hangar, con il pinzone, la chiave 300, i forza Italia, guardalo là, guardalo là, tutto preso dal suo biplano, una persona, guardalo, no, no, rancio mezzo motore e spingilo un poco, e a che stai ce ne rai? Ma che bravo, ma che bravo, ma si cagli pure i pannulini sull'is, che bravo, oh Gesù, stanno alle prese col baricentro, oh Gesù, Gesù, Giuseppe e Maria, oh guardate là giù, liberato col modello nuovo, vediamo se riusciamo a beccarlo, vediamo, vediamo se lo riusciamo a beccare da lontano, da lontano, eccolo, si nasconde, eccolo, 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 ancora, dagli motore, dagli motore, motoreggialo, motoreggialo, motoreggialo ancora un po', 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 bravo! Ciamacabra, 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 guardate che manicomio non hanno giù, ciamacabra, no ma ti basta, manicomio, manicomio sta scritto alla pola, mica lì, che scemo, sta a una pola, no no per voi c'è ancora, c'è ancora villa camaldoli se volete sulla strada ve la dico ci sono andato ieri dimostrò la strada eccolo qua il campionato del campeon del mondo campionato sdo mundos guai che mollodello vedo la qua ci vado da nuovo tu usi gudier e non avere problemi basta